Buongiorno e buon caffè. La mia amica Anna Talò, in un caffè recente che le ho dedicato, perché merita, mi ha stimolato ulteriormente, come fa di solito, perché è un po' questo compito il suo, quello di stimolarmi a ragionare, approfondire alcune domande, alcuni spunti, con delle domande ulteriori che impongono un nuovo caffè. E fondamentalmente mi chiede questo. Ma se siamo in un certo modo, le colpe sono della società o sono nostre? E che peso hanno l'una e l'altra, l'altro fattore nell'influenzare le nostre azioni, i nostri comportamenti, in ultima analisi quelli che noi siamo? E che cosa di queste responsabilità sono effettivamente adducibili a noi e non sono invece parte della nostra natura? Una particolare sensibilità, una particolare empatia, una particolare debolezza forse in alcuni casi? Non so dare una risposta precisa, posso dare la mia risposta. Quello che io so e conosco è che sicuramente noi contiamo e soprattutto è vero che abbiamo una predisposizione, una sorta di imprinting iniziale, chiamatelo carattere o chiamatelo temperamento come volete, che in qualche modo ci forgia. Ma è anche vero che noi siamo il risultato delle nostre azioni. Altrimenti tutto sarebbe meccanico, altrimenti non ci sarebbe la responsabilità personale, altrimenti non saremo che dei burattini determinati dal caso. E io questo non lo voglio credere, non lo posso credere, anche perché il mondo intorno non avrebbe senso se fosse così. Noi diventiamo quello che facciamo, noi siamo figli delle nostre azioni, le nostre azioni determinano quello che siamo. Se io rubo divento ladro. Un meraviglioso passo di Dostoevsky nel Delitto e Castigo descrive proprio questo cambiamento nel protagonista, in Raskolnikov. Raskolnikov sale le scale dove andrà ad uccidere l'usuraia, lo studente commette il delitto, ma poi quello che scende le scale è l'assassino, perché oramai è diventato un assassino. Noi siamo forgiati da quello che facciamo, noi modifichiamo i nostri comportamenti successivi in funzione di quello che abbiamo fatto prima. Questo indurimento della coscienza, oppure il contrario, la capacità di renderla sempre più sensibile, sempre più attiva, dipende dalla nostra azione. Certo, dipende dal contorno che ci può più o meno spingere ad essere buoni o cattivi. Lo diceva Papa Wojtyla con il concetto di struttura di peccato che attenua le nostre responsabilità, ma se vogliamo credere nella libertà siamo noi a decidere. Plasmati in parte dal nostro contorno, ma se fosse il contorno a decidere non saremmo più liberi e saremmo costretti a seguire un destino che qualcuno ha già scritto per noi. Buona giornata.